Chiediamo a Padre Beniamino il forestiero che si trova nelle nostre città, nelle nostre strade, nelle nostre periferie. Padre Beniamino impegnato da tanto tempo nell'accoglienza degli immigrati, quindi conosce lo scenario della realtà diocesana. A lui chiediamo di aggiungere una riflessione. Dopo la relazione approfondita e chiara del Vescovo responsabile dell'immigrazione in campo nazionale e che ci ha sottolineato come l'aspetto formativo è essenziale per entrare nella dinamica dell'accoglienza. Io vorrei però andare oltre, perché se io chiedo a voi se conoscete o meno il Vangelo, tutti voi mi rispondete sì. Anche quelle frasi che sono state riportate, le sappiamo a memoria. Andiamo in chiesa, i preti ce le spiegano. Ma qual è poi il rapporto con la realtà? Come si può coniugare la conoscenza con l'applicazione? Si può diventare ascoltatore soltanto, si può diventare realizzatore. L'esperienza nostra, e quando parlo al pluralemi significa della mia comunità, della nostra comunità, è un'esperienza che nasce da un desiderio profondo, quello di saper guardare attorno a noi. Gesù era uno che sapeva guardare, era attento, si accorgeva laddove gli altri non si accorgevano. La Bibbia dice che hanno occhi e non vedono. Può capitare. Chiudere gli occhi e non capire più niente. Una parrocchia che si fa accoglienza, si fa accoglienza, non fa accoglienza. La differenza è sostanziale. Fare accoglienza significa che io posso dare il mio spazio, posso dare un po' del mio tempo, ma farsi accoglienza è la tua persona nella sua in totalità che si mette al servizio. Non esiste più il tempo, non esiste più il tuo tempo, perché il tuo tempo è diventato il tempo degli altri. D'altra parte, quando Papa Francesco vuole definire Dio, dice Dio non è il Dio dello spazio, del tempo, il Dio dello spazio, che significa Dio entra nella tua vita, entra nella dinamica del tuo operare, lo incontri per strada, lo incontri nei tuguri, lo incontri nelle periferie, lo incontri laddove pensavi di non incontrarlo, se non nel santuario, nella tua chiesa, in quella cappella. Dio è ovunque e non è una teoria scoperta oggi, ma il catechismo ce l'ha insegnato da tanto tempo. Una storia, una piccola storia che dura da 25 anni, scritta da una comunità parrocchiale, collocata in una periferia esistenziale, questa comunità, in una periferia laddove spesso ci sono i luoghi comuni che la definiscono. I forconari, i forconari, da che cosa di buono può venire da Nazareth, vi ricordate? Cosa può venire di buono da Orsoturo e i forconi? Una piccola comunità in una periferia esistenziale che mette in gioco tutta se stessa. Un giorno mi dissero, pace bene a me, ma perché non dobbiamo essere una parrocchia come le altre? E io risposto, ma come sono le altre? Perché ti fanno un catechismo, dicono a Missa, a Novena, a Sant'Antonio e cose, e lei, lei, costinivore, con questi negri. E non me lo diceva gente che non andava a messa, me lo diceva gente che va a messa. Un giorno è venuto un parrocchiano di una parrocchia, la vuole smettere sì o no? Mi ha detto, lei sta rovinando la città di Vittoria. Era una che faceva parte da un movimento e specificò subito, io mi facevo comunione tutte le domeniche, lo specificò. Dalla teoria la pratica, dagli sogni a una realtà, dalle buone intenzioni allo sporcarsi le mani, che deve sporcare le mani, altrimenti tu fai poesia. E questa avventura iniziò negli anni, alla fine degli anni 80, quando non si parlava di immigrati, quando il Papa non assicurava il suo sostegno, quando le parrocchie non venivano sollecitate a dire, pigliate mille, prendeteli. Un sacerdote mi disse un giorno, io ho tanto locale, ci sa perché non li apre i poveri. Non mi risposa. E la risposta del Vangelo, che è la risposta che dà la vita, l'unica via che porta alla salvezza, non che dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Ave Maria e Padre Nostro, ne possiamo dire migliaia al giorno, ed essere lontani dalla salvezza. Avevo fame, avevo sete, lo avete detto, no, ero forestiero, ero malato. Ero in carcere, ero, ero, ero. Ma chi ti ha mai visto? Se ti fosse prendato con una bella croce al petto e con la scritta, ah, Jesus, ti avremmo creduto? Non ci avremmo creduto. Perché se venisse oggi non ci crederemmo, lo prenderemo per pazzo, come lo presero per pazzo una volta. Tre sono le cose che restano, la fede e la speranza, ma la più grande è la carità. E non è un discorsetto da femmenucci. Non è un discorso da catechismo. È di rivoluzione, rivoluzione, amici miei. Il Vangelo è rivoluzione. Non è quietismo, non è assuefazione, non è autoreferenzialità. No, no, il Vangelo ti spinge a buttarti. Un giorno mi dissero, Padre Bignamino, ma quando inizia la sua giornata? E quando finisce la sua giornata? Io qualche giorno prima ero stato svegliato alle 4 del mattino da un poliziotto che mi diceva, Padre Bignamino, in piazza c'è un tunesino che si vuole imbeccare. Chiede di lei. Io mi alzo la mattina alle 4, vado, cerco di convincerlo, ci riesco alla fine. Si pisse il giubbotto col quale si voleva imbeccare e torno a casa. Dovevo partire per Palermo. Quindi erano le 5 e mezza, sei, parto per Palermo, arrivo a Palermo, porto dei documenti, riparto, arrivo in parrocchia, davanti alla parrocchia quattro persone. Pace Bignamino, Pace Bignamino, Pace Bignamino, Pace Bignamino, quelle cose che tutti noi sappiamo. Mangio un boccone, mi metto un po' a letto perché dato la mia età ho bisogno di riposare e i miei acciacchi congeniti. Alle 3 e mezza mi alzo, Pace Bignamino, Pace Bignamino, Pace Bignamino, alle 5 e mezza la messa. Dopo la messa, sa, Pace Bignamino, si ricorda che deve benedire il locale, benedire quel locale, torno, c'è il ricorso dei battesimi da fare. Alle 11 mi metto a letto, all'una meno un quarto, una telefonata da Comiso. Pace Bignamino, c'è una famiglia, sta piovento, c'è una mamma con una bambina, dove dobbiamo portarla? Portatela qua. Se fa l'una e mezza, se fanno le due, le tre e tu vai a letto, quando cominci la giornata di un prete. Quando il suo cuore si chiude, finisce, si apre quando il suo cuore è aperto e siccome il cuore può essere sempre aperto, una comunità parrocchiale deve fare opera di discernimento non soltanto al suo interno, ma deve saper leggere gli avvenimenti del territorio dove è collocata. Noi non siamo sacristi, non siamo top di sacristia. Noi non siamo persone che ci hanno collocati in una dimensione e guai a uscire fuori. Noi apparteniamo al mondo. I francesi dicono ma parroise le mo, la mia parrocchia è il mondo, ma i cercis the world. la mia chiesa, la mia chiesa, la nostra chiesa, la chiesa di chi? Damici lo signoruzzo, poi glielo spiego. Vi ricordate la tragedia del 2 gennaio di qualche anno fa? Venne storicamente riportata come la strage di San Basilio. Furono ammazzate 5 persone in un bar e io sono andato a vederle quelle 5 persone, messe lì, buttate come in un macello, mezzi nudi. Uscendo mi sono chiesto a Bignamino Sacco, ma tu cosa puoi fare? No cosa può fare il governo, no cosa può fare il vescovo, no cosa può fare la prefettura, no cosa possono fare gli altri, tu cosa puoi fare? Perché la tua coscienza è stata interpellata, non sei andato a fare il curioso o a piegnocolare, dobbiamo smettere di piegnocolare. Scusate il tono ma io sono così, non vi scandate. C'è un giorno eravamo in una riunione diocesana, qualcuno di voi era presente, si alzò uno, dice dovevo fare delle proposte, no? Si alzò uno, prima raccontò che loro avevano costruito la chiesa, a proposito, io non ho costruito una chiesa eccellente, io non ce l'ho una chiesa, io ho costruito una tenta. La tenta è precarietà, è cammino nel deserto, fa freddo, ogni tanto i parrocchiali, fa freddo, io ho comprato dei funchi, ogni tanto funzionano, ogni tanto funziona, non funziona. Cioè, se abbiamo costruito una bella chiesa, abbiamo contribuito tutti, no? 200 euro a metro quadrato, probabilmente. E poi abbiamo perso i valori. Questa espressione mi dà un fastidio enorme. Abbiamo perso i valori. Ma dove li hai persi questi valori? Dimmi dove li hai persi, che li andiamo a trovare. Ma che ci può fare perdere i valori a noi? Quanti i valori sono un fiore all'occhiello oppure un distendivo? Allora può cadere il distendivo, ma fanno parte della tua vita, ma mi romperà la testa, che abbiamo persi i valori. E se è più facile adeguarsi alla mentalità? Ed è più facile seguire le mode? Se è più facile lasciarsi intruppare? Tutta... Io guardo ogni tanto il greggio, io sono un bucolico. E camminando, guardi i fiori che nascono sul ciglio dell'assata, e mi ubriaco di colori. E allora le pecore, no? Sapete le pecore come camminano, poverini? Tic... Cate sta... Farò sempre sì. La prima pecore a parte... Tic 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 tic... Uomini siate, non pecorevate. Fate non fosse per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, diceva qualcuno. E fu. la chiesa non è un monumento da ammirare un bel monumento a Quintenno ci sono le state mummificate dal tempo e se fossimo mummificati io non ho mai capito eccellenza quando si faceva la comunione la Gino faceva così ma che è questa forma di uno dovrebbe andare ho ricevuto lui e che fosse va tutto un muffiato non esiste esposte quest'estate in un determinato occasione celebrativa chiuse nell'alvio ristretto degli amici di fede la chiesa è vita che condivide e si proietta nel tempo la chiesa è un popolo con gli occhi aperti la chiesa è un popolo dagli occhi aperti che vede dove gli altri non possono non vogliono vedere che va al di là una volta eravamo su un autobus io ho visto un poveretto per strada ma solo lei l'ha visto mi ha detto la chiesa è un popolo quindi con gli occhi aperti col cuore in grado di capitare le gioie e dolore le ancosce e le malattie come a dire in grado di farsi prossimo del prossimo la chiesa è composta da un popolo che tiene gli occhi aperti per capitare il grido di chi giace sul ciglio della strada ne ha parlato il Monsignore quando parlò di quell'uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico coloro i quali avevano gli occhiali li hanno affumicati il sacerdote aveva quello lì aveva invece le rette a contatto il giovane perché gli pareva brutto avere gli occhiali e andò oltre uno poverino che ci vedeva così così si fermò e si sporcò e si sporcò si insanquinò si sporcò i piedi la tunica misi in gioco il suo tempo ci rimisi i sordi che sordi degli altri siamo tutti capaci a fare la beneficenza e con i nostri soldi nel tuo stipendio c'entrano i poveri nel tuo stipendio non lo stipendio degli altri la chiesa come dice Papa Francesco è un ospedale da campo dove vengono assicurate le cure per tutte le emergenze che si presentano c'è posto per tutti anche per quando sono in pellegrinaggio verso la speranza quindi anche per gli immigrati la particolarità del nostro accoglienza è che vivono in una parrocchia assieme ai parrocchiani i bambini giocano insieme non abbiamo paura di contaminarci io non ho mai usato guanti dice è poco igienico non mi interessa è il mondo di quelli che noi consideriamo immigrati ma che noi non definiamo tale perché nessuno è immigrato sulla terra perché la terra è di tutti perché Dio l'ha data a tutti è l'egoismo dell'uomo che ha creato i limiti per crearsi il paradiso terrestre che non è più che non è più perché non poteva essere paradiso terrestre inventato dagli uomini solo Dio può creare il paradiso terrestre le persone che vengono da lontano noi consideriamo ospiti nell'accessione più bella del termine dopo ospitalità significava per noi sacralità l'ospite è sacro gli concedevamo il letto in casa si concedeva il letto matrimoniale agli ospiti insomma noi siciliani abbiamo tante limite tante difette ma in fatto di accoglienza non siamo secondi a nessuno a meno che abbiamo paura di dirlo il nostro non è un buonismo né semplicemente assistenzialismo scusatela comunque siete stanche io non sono stanco ergo procediamo certo le risposte alle prime necessità è il primo momento di aiutare ma non ci si può affermare a questo occorre farsi carico di tutta la persona con le proprie esigenze materiali ma anche quelle spirituali si tratta di affermare il diritto della dignità di ogni persona ogni persona ha il diritto di essere trattata da persona nessuno può calpestare questo diritto per nessun motivo il diritto alla libertà all'autodeterminazione al lavoro alla casa quante volte abbiamo denunciato fenomeni che forse per alcuni non valeva la pena denunciare vedi la violenza alle donne siamo stati i primi in Italia a denunciarlo e non l'abbiamo denunciato perché sentivamo dire perché vedevamo perché la gente poi li portava da noi queste donne in barrocchio sono nati otto bambine frutto di violenza che non è la violenza pesa a pedate è una violenza sulla gente che non ha il diritto di scelta ed è la violenza subito ed è la più violenta quella a approfittare di chi è in difficoltà e quante volte sento dire la colpa è loro capite la colpa è loro perché l'uomo non ha colpa ha una donna che venne da me a dire dove è dove è che ammazzo che l'ha uccido traduzione simultanea dove è dove è ci disse signora vada a casa sua e uccida suo marito perché suo marito si è messo con la ragazzina di 22 anni lui ne ha 62 un'altra il figlio l'ha messa incinta alla fine pretendevano che lei con dei soldi c'eressi il figlio ma lei doveva andare via capite nessuno può calpestare la dignità siamo verso la fine per fare questo occorre un'educazione all'alterità dobbiamo essere educati perciò e finiamola e finiamola di fare le spallucce sapete quando è triste per una persona sentirsi dire Pace Begnamino lo fa per i soldi è l'offesa più grande che potete fare e l'avete fatto anche voi e l'avete detto anche voi e l'avete detto anche voi e l'hanno detto anche i colori i quali vi guidano lo fa per i soldi vergogna io non mi appartenco io vacanze non ne faccio io vacanze non ne faccio io non cammino con i SUV io mi sporco i piedi io vado a raccogliere frutta e verdura campagna e campagna non si può amare per 25 anni per i soldi anche quando qualcuno ti prende un coltello e te lo punta e qui in pancia la minaccia c'è stata quando è stato dei 5 morti dite a quel prete che la smetta perché altrimenti lo ammazziamo non giochiamo non giochiamo con la vita degli altri non avete il diritto di farlo e non c'è il diritto nessuno dicevo oggi pomeriggio mentre ci incontravamo collaborare nell'onestà non i sorrisetti sotterfugio nell'onestà perché un uomo può essere quello che è ma se non è onesto è un pulcinello e l'onestà significa dire in faccia le cose così come le sento te le dico in faccia perché così tu puoi parlare non è uno scaricare no no dico per prendere coscienza per prendere coscienza la nostra storia ci insegna che una comunità quanto prende coscienza non ha paura di sfidare anche le mentalità dominanti non ha paura non si lascia condizionare da atteggiamento ostile o da critiche che avvengono e quante critiche cammina per la propria strada e si propone come segno perché come ci ricorda il Vangelo vedono le vostre opere buone e glorificano nel Padre vostro che nei Cieli ad maiore me dei gloriam è il punto di riferimento di chi opera in nome del Vangelo se non c'è questa gloria c'è la ricerca di se stessi si diventa santoni si diventa protagonisti ma noi dobbiamo essere protagonisti dell'amore dove l'amore diventa il fiore all'occhiello di ciascuno di noi grazie 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 a Padre Beniamino per la testimonianza col calore che gli conosciamo ma perché viene dal cuore ecco dalla capacità di vivere fino in fondo nella concretezza ciò che ci ha testimoniato stasera grazie a tutti